Voglio dare il mille per mille, però so anche io, io sono realista, io non vado in campo così tanto per dire sì gioco, metto la maglia, ma sì tanto sottitolare, io voglio essere importante, voglio dare un qualcosa che possa tra virgolette poi fare la differenza, perché io non ero Pelé l'anno scorso, non sono diventato un morto quest'anno. So anche io che il modulo così, nell'eventualità, se uno ha bisogno io posso giocare anche terzino, ma se uno ha bisogno so che non sono le mie caratteristiche fare o l'esterno o il centrocampista centrale, lo so anche io, ma per eventualità se uno ha bisogno io mi metto a disposizione. Poi se mi chiedi dove preferisci giocare ce lo sanno anche i muri che mi piace fare la mezzala, però questo è una cosa che aspetta l'allenatore, se continuerà così aspetterò il mio momento, vediamo e valuterò poi come metterlo in difficoltà. Se cambia sono contento. Guarda, io credimi, da quando ho iniziato il campionato fino ad adesso ne ho sentite, guarda di tutti, proprio la cosa che non riesco a capire è che gente che fino a due mesi fa parlava in maniera totalmente diversa, parlava tutto di altre cose e quindi alla fine io la vedo in maniera tranquilla e serena che quando uno pensa così non è coerente in quello che dice, quindi io ho giocato contro la Juve senza Ibra e ho fatto gol, però io ho il mio obiettivo che è come è successo l'anno scorso, che all'inizio dicevano che non ero da Milan e poi dopo abbiamo visto tutti come è andata, quindi io la vivo serena giorno per giorno, poi sicuramente farò ricredere di nuovo chi parla male di me. No, non lo so, no, no. Se ti capiste avanti alla difesa ti ci vedi bene? No, 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 io al massimo che potrei fare o potrei stare tipo come faceva per Rotta nella Roma dietro la punta che si inserisce o al massimo sulla sinistra, però queste sono cose che sinceramente non ci penso, non ci voglio pensare, non è adesso nei miei pensieri quindi sinceramente spero che possa cambiare, però io sono a disposizione e quello che mi verrà chiesto per esigenze lo farò però se io ti devo dire che il mio ruolo è quello, ti dico guarda ci sono giocatori più forti di me che lo fanno meglio e non sono stupido da dire io sono forte qua, io no.